e amici di train turbo 24 buona lunedì e ben ritrovati con l'appuntamento settimanale dedicato alle strategie operative firmate IG quest'oggi andiamo a wall street perché arriva un'ottava molto importante per quello che la re delle commerce amazon è infatti prossimo ormai la black friday con quella venerdì nero il prossimo che viene che sarà anche uno degli appuntamenti più importanti per amazon e andiamo a vedere quello che il quadro tecnico e partiamo con questa analisi guardando proprio il grafico su base settimanale grafico da cui riusciamo a vedere come il titolo nel corso delle ultime settimane abbia registrato nuovi massimi storici poi la correzione della passata ottava così come di quella precedente che potrebbe essere utile per un completamento profondo della pullback tecnico grafico di questa trendline ribassista ottenuta con i top di luglio così come con quelli di settembre di questo 2024 trendline rotta al rialzo con la progressione di fine ottobre e dunque in termini di rischio rendimento ecco che si può ipotizzare un ingresso in acquisto nell'intervallo compreso fra i 190,70 per ai più conservatori più invece in area 191 e 50 191 e 55 per coloro che hanno un atteggiamento più aggressivo in questo caso stop da collocarsi in caso di chiusura di giornata sotto la soglia psicologica dei 180 dollari che poi è la base di partenza di quel movimento propulsivo che ha caratterizzato la mese di ottobre per quanto riguarda i target una prima target si può individuare in prossimità dei 208 209 dollari e poi a seguire invece verso nuovi massimi storici da sottolineare come per quanto concerne amazon non è solo il black friday a guidare alla rialzo di quotazioni ma anche quelli che sono notizie di possibili investimenti corposi investimenti su fronte dei chip dedicati all'intelligenza artificiale vi ricordo lo vediamo anche qui che potete negoziare tanto al ribasso quanto al rialzo con i cfd firmati ig è molto semplice potete andare a inserire il vostro ordine di acquisto con questo caso per esempio una bai andando a inserire anche quello che la livello di ingresso che vi può interessare i 191 ad esempio lo vedete corrisponde proprio alla pullback della line indicata e qui poi potete andare a impostare anche quelli che sono i livelli di stop così come quelli potenziali di target in base alla size ovviamente che andate a inserire ad esempio mettiamo 100 e qui vediamo come la richiesta del margine sia 3.652 euro per prendere una posizione su 100 azioni amazon in una strategia che vi porterebbe ad avere uno stop in prossimità del livello indicato di 1.200 dollari mentre per quanto riguarda il target lo vediamo siamo nel ritorno dei 1.790 a 1.800 dollari e per quest'oggi è tutto vi ricordo i g.com trovate tutte le indicazioni su quelle che sono le soluzioni per fare trading con IG forse anche quell'account demo che vi permette di esercitarvi noi con trading turbo 24 torniamo lunedì prossimo vi auguro buona giornata e buon trading